Positivi in calo, boom di guariti nel Vesuviano. Trend di contagio è un costante calo per la regione Campania. Da giorni, ormai, i nuovi positivi tendono a diminuire, mentre i guariti aumentano. Solo ieri oltre 3.000 cittadini hanno sconfitto il Covid, a fronte di circa 2.000 nuovi contagiati, una tendenza che si riscontra anche nei singoli comuni. Da inizio settimana sono più di un centinaio i cittadini di Torre del Greco guariti. I nuovi positivi restano sempre troppi, ma con numeri decisamente inferiori rispetto ai picchi delle scorse settimane. Stesso trend per Torre Annunziata, dove, solo oggi, sono solo 5 nuovi casi di contagio su 118 tamponi processati. Al contempo si registrano anche 14 guarigioni. Tra i cittadini che hanno sconfitto il Covid, anche il primo cittadino, Vincenzo Ascione, scendono a 239 gli attualmente positivi. A Castellammare sono 19 i cittadini positivi al coronavirus su 276 tamponi lavorati. Alto il numero di guariti, con 67 stabiesi che hanno sconfitto il virus.